Hi guys, oggi siamo Alexa Alexa, come ti chiami? Mi chiamo Alexa, che domanda? Non so che sei già Alexa, non so che sei Alexa Alexa, cosa chiedete? Cosa chiede Alexa? Un attimo, un'altra volta Il vulcano, il vulcano, quando è esploso? Quale vulcano? Quale domanda? Fai una domanda bene Alexa, è nato prima l'uovo o la gallina? Le uova di dinosauro esistevano da secoli prima delle galline, quindi direi l'uovo Ma aspetta un attimo, gli uccelli si sono evoluti da un gruppo di dinosauri carnivori che non fanno solo qua Mi sa che ci sono certe domande che sono troppo difficili anche per me Ho il volume Ho il volume Alexa, alza il volume Alexa, basta Per alzare il volume Bisogna schiacciare quello là Più E per alzare Per abbassare questo Ok I got Domanda 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 D'Alexa Allora, operazione No Domanda altre cose Utile Ricordi del pianeta Alexa Alexa Qual è la foresta più grande? La foresta più grande è Taiga Eh? Taiga Taiga E dove? Alexa Alexa, qual è il mondo più grande del mondo? In base al tuo codice postale ti trovi nelle vicinanze di Spinea 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 Ma perché Spinea? No, perché avete dov'è, ha sentito solo dov'è perché Va bene, dai Alexa Ah, il fiume più grande chiediamo Alexa Alexa Qual è il fiume più grande? Il fiume più lungo è il rio delle Amazoni che è lungo 6.992 km Eh, tanto Tanto E' tantissimo Alexa Quanto lungo è il mare? La lunghezza media di mare è di 1260 km Altissimo però Lunghissimo Come la tua faccia Lunghissimo Allora, abbiamo finito per oggi Allora vi spiego come funziona Intanto potete comprarla anche su Amazon Allora Questo più E' per Alzare il volume Meno E' per abbassarlo Poi questi due bottoni Questo Cerchetto E questo cerchetto con la barra Guardate Non so 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 Ok Ok Ciao 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 Al prossimo video Iscrivetevi Iscrivetevi nel canale Mettete like Iscrivetevi